Volevo chiedere, ti sto chiedendo prima il film è uscito in Tunisia, come sta andando? Il film è uscito il 23 settembre, il film è uscito il 27, il 23 all'arte prima in Tunisia e abbiamo fatto questa scelta perché c'è un sacco di film in Tunisia che stanno uscendo in questi ultimi tre anni, quindi abbiamo scelto di farlo scelto prima perché la prima internazionale del film sarà il Cairo Film Festival, questa è l'anteultimata italiana e ringrazio il Met Film Festival, anche l'ambasciata tunisina in Italia, il nostro ambasciatore è molto presente qui perché ci hanno dato questa opportunità anche l'anno scorso di presentare i film tunisini che possono dare un'idea della Tunisia post-rivoluzione, una Tunisia nuova, ma una Tunisia che può essere insomma al contrario di quello che dicono sui telegiornali che è un paese che non è sicuro, è il contrario perché noi abbiamo girato durante il coprifuoco nel 2015 di Mohammed Zank che era un attentato contro la polizia presidenziale, il corpo della polizia presidenziale e quindi comunque lo Stato sta dando una mano a tutti i cineasti e tutti i produttori per produrre dei film, immagini che possono essere esportati all'estero della Tunisia e per promuovere anche il nostro paese posto di funzionario. Grazie mille, buona fortuna.